Un video per denunciare la mancanza di manutenzione della strada che collega il lago con l'Alta Valsassina. A realizzarlo un giovane biker, Davide Fazzini, che con una GoPro attaccata la sua motocicletta, ha ripreso i pericoli delle due provinciali, la 62 e la 67, che da Bonzeno, frazione di Bellano, conducono a Premana. Tante le criticità spiega il motociclista, fondo stradale dissestato, talvolta in corrispondenza di curve già pericolose, ringhiere di belte, in alcuni casi sistemate con improvvisate aste di legno, mancanza di segnaletica orizzontale, vegetazione che invade la carreggiata. Tutti i problemi, fa notare l'autore del video, che creano situazioni di costante pericolo per chi percorre la strada. In molte zone dell'importante arteria, da anni non si effettua nessuna operazione di manutenzione, denuncia il biker. Gli unici tratti accettabili sono tra l'hotel Sassi Rossi, a Crandola, Valsalsina e Marnio e prima del Ponte di Zaceno, asfaltati da poco. Assieme ad alcuni miei amici, afferma, stiamo provando a farla circolare in rete e filmato, sperando che qualcuno possa porre rimedio a questo scempio che ogni giorno crea pericolo per pendolari e turisti. Grazie a tutti.